Sarà Salernitana? Sì, sì, sarà Salernitana e da domani sarò giù e speriamo che questa nuova avventura sia un pochettino più fortunata di quella che è stata fino adesso qui, perché comunque è stata un'annata difficile sotto tutti i punti di vista e lo è tuttora nel quotidiano, un giorno ci rubano gli scarpini, un giorno fai la doccia fredda, così è difficile andare avanti e quando capitano magari alcune occasioni uno le prende in considerazione.